E' in arrivo un'estate di grandi eventi musicali con naturalmente pianoforte. Il direttore artistico Enzo Gentile è con noi per portarci nel vivo di questi concerti. Io, Enzo, nel salutarti ti reggo soltanto i nomi. Nicolò Fabi, Paolo Fresu e Omar Sosa, Angelo Branduardi, Simone Cristicchi e Amara. Niente male, eh? Sì, buongiorno a tutti. Quest'anno, come succede negli anni dispari, abbiamo dovuto ridurre il numero degli appuntamenti, ma abbiamo pensato quindi di sottolineare invece la qualità, anche il prestigio dei nomi invitati. Quindi quelli che tu hai segnalato vanno proprio a suggerire questa indicazione, questo percorso. C'è molta canzone d'autore, ma c'è anche una dimensione di jazz che non guasta mai. Sono piccole proposte che con molta umiltà noi proviamo a fare, pensando appunto che il pianoforte sarà comunque protagonista, anche se all'interno, in un contesto più ampio, ad esempio di canzone, o nel caso dell'incontro tra Paolo Fresu e Omar Sosa, in un dialogo tra la tromba e il pianoforte. Cominciamo allora ad entrare nel vivo di queste serate. Il primo focus è sul fine settimana che va dal 21 al 23 luglio. Si comincia venerdì 21 luglio con l'arrivo di Niccolò Fabi. Credo che questo fosse uno degli artisti che da anni erano nel mirino di Naturalmente Pianoforte. Sì, ne avevo parlato proprio direttamente con Niccolò già da diverso tempo. Poi c'è un rapporto di amicizia, quindi lui mi ha detto una cosa che tu mi proponi sicuramente mi piace. Niccolò verrà da solo col pianoforte e con la chitarra. Lui suona entrambi con una buonissima punta espressiva e poi naturalmente canterà le sue composizioni che in un ambito di musica all'interno del parco delle foreste casentinesi, credo, vivano la loro dimensione ideale. Naturalmente Pianoforte vuol dire anche questo. È la musica in un contesto speciale, nel contesto di un parco nazionale che tra l'altro quest'anno festeggia 30 anni di vita. Quindi la musica è un modo anche per celebrare questo anniversario. Il 21 si comincia con Niccolò Fabi e una sera di distanza, 24 ore dopo, sempre a Prato Vecchio, arriva questa accoppiata straordinaria. Paolo Fresu e Omar Sosa. Allora, noi come regolamento interno, è un po' una richiesta e una confessione che ci siamo fatti con l'associazione Prato Veteri, abbiamo sempre deciso di non ripetere gli stessi artisti in programma, proprio per consentire un'ossigenazione alle nostre scalette e una perlustrazione anche in campi diversi. Poi molti di questi artisti sono anche degli amici personali e quindi sarebbe diventato molto difficile in alcuni casi dire non ti faccio tornare, ma se questa è la regola anche gli amici devono soggiacere. Diciamo che è stato un po' un trucchetto per poter dire di no, anche se amare in cuore. Omar Sosa era già stato, bisogna dirlo, a Prato Vecchio. Aveva fatto un bellissimo concerto, in quel caso, al Castello di Poppi. Ma in quel caso era una condizione assolutamente diversa, perché era piano solo. In questo caso lo presentiamo invece in un'accoppiata assolutamente superlativa, insieme a Paolo Freso. Paolo Freso a sua volta l'avevo cercato negli anni scorsi, perché aveva comunque collaborazioni in corso con altri pianisti. E proprio l'anno scorso mi disse, se vuoi, io vengo nel 2022, però sappi che l'anno prossimo è in partenza un progetto, anche discografico, assolutamente nuovo, che mi piacerebbe molto portare in giro anche da voi. E in questo caso sarò insieme a Omar Sosa. Allora, ricordando anche l'efficacia e l'accoglienza che ebbe Omar quando venne qualche anno fa, ricordando anche quale fu il gradimento di Omar Sosa per la vostra zona, per il vostro ambito, per il nostro festival, ho detto, bene, allora combiniamo. Sempre bisogna essere molto fiduciosi e ottimisti sulle date, perché Paolo ha un calendario fitto che arriva già all'anno prossimo. Però siamo riusciti a bloccare questa serata e presenteranno sicuramente anche alcuni brani del disco che è uscito proprio nei giorni scorsi. E poi comunque sono due artisti che ovunque mettono le loro mani, comunque gestiscano i loro suoni, sanno offrire una bellissima condizione col pubblico. Quindi Omar Sosa e Paolo Fresu sono sicuramente un fiore all'occhiello per naturalmente pianoforte. E per completare questo fine settimana davvero strepitoso, il 23, domenica 23 luglio, ci si trasferisce da Prato Vecchio a Romena per assistere al concerto di Angelo Branduardi. Mi fa una certa impressione, Enzo, pensare a Angelo Branduardi nel Prato di Romena con di fronte il crudo sasso della Verna che ha dato tanta ispirazione anche a lui per il suo Francesco. Sì, saremo all'ora del tramonto, quindi anche un momento perfetto per la luce, per la condizione del pubblico. Sempre alla Pieve di Romena, in passato ha suonato ad esempio Ludovico Inaudi al tramonto e fu a sua detta, perché poi ce lo ha confessato, uno dei momenti di maggior commozione, trasporto della sua tournée. Con Angelo abbiamo parlato, ovviamente gli ho mandato le foto, lui il posto non lo conosce, ma l'area, la zona ovviamente sì. Quando gli abbiamo mostrato ovviamente il punto in cui avrebbe cantato e suonato, è stato un immediato sì, un ok senza riserve. Tra l'altro Angelo Branduardi suona una serie di concerti quest'estate, avendo però una distanza tra una data e l'altra, è impegnativo un suo concetto, nel senso che è accompagnato solo da un altro musicista che suona diverse cose, compreso il pianoforte naturalmente, mentre lui si divaga tra la voce e naturalmente il violino. Questo concerto di Angelo Branduardi è sicuramente curioso rispetto alla nostra manifestazione, perché è centrato sì su alcune canzoni di grande successo della sua carriera, ma anche su momenti di maggior riflessione che avvicinano la sua produzione a una dimensione di spiritualità che ovviamente a Romena trova la sua pertinenza maggiore. E quindi in quel momento io credo che ci sia rispetto anche al luogo una compenetrazione ideale, naturalmente la verificheremo insieme, ma Angelo mi ha chiesto di conoscere, di visitare il luogo, credo che sarà dal giorno prima in zona, in Casentino, e quindi sicuramente vorrà fare un sopralluogo, ma anche conoscere bene il luogo in cui ci troviamo. E quindi sapendolo come persona di grande sensibilità e anche di una capacità di avvicinare le cose, le persone con un sentimento particolare. Ecco, io ho grande fiducia in questo concetto che ho già visto, io quasi tutto quello che presento ho cercato di assaporarlo già. In qualche caso sono solo i dischi, come quello di Omar Sosa e Paolo Freso, perché il tour comincerà proprio a luglio, quindi non potevo vederlo prima. Il resto più o meno lo conosco, ma io ho avuto, tra virgolette, lo svantaggio di vedere questi spettacoli in un teatro, mentre quando questi artisti li porto in Casentino so di poter fruire di una carta in più, con un punteggio maggiore, perché c'è il vostro territorio, c'è anche un pubblico particolare, che non è quello, peraltro rispettabilissimo, che va nei teatri in tutta Italia, ma in teatro ci si va per vedere tanti artisti, tanti spettacoli. In Casentino si viene invece, per quanto ci riguarda, esattamente con un'intenzione, che è quella di abbracciare e lasciarsi abbracciare da una certa proposta artistica. E quindi Angelo Branduardi è un momento che credo potrà interessare anche coloro che non sono strettamente vocati alla musica, alla canzone, ma apprezzano e amano una certa lingua calata in un preciso istante e in una precisa geografia. Rimaniamo nel prato di Romena, dobbiamo aspettare poche settimane rispetto alla data del concerto di Branduardi e in quello stesso spazio, in quello stesso momento, cioè al tramonto, arriveranno Simone Cristicchi e Amara con questo spettacolo dedicato al grande Franco Battiato. Prima dicevamo che naturalmente Pianoforte in qualche modo richiama l'elemento della natura, dell'ambiente come punto di forza del Casentino, sicuramente a questo si aggiunge anche la spiritualità. E parlare di Battiato in un luogo come Romena, con le sue canzoni, con le sue parole, con due artisti che sono assolutamente congeniali rispetto al maestro siciliano, è sicuramente un modo straordinario di vivere il Casentino a tutto tondo. Sì, lo spettacolo di Amara e di Cristicchi l'ho visto pochi giorni fa a Milano, è passato dal Conservatorio Giuseppe Verdi, una bellissima sala dove l'ascolto è ovviamente molto adeguato, molto opportuno. La formazione è larga perché sono in sette sul parco scenico, naturalmente Simona Cristicchi e Amara, che è una cantante italiana tra l'altro di origine di Prato, 38-39 anni, ancora giovane. La si è vista negli anni scorsi anche in manifestazioni come Sanremo, come X Factor, credo, e ha scritto soprattutto dei brani anche per altri artisti, ad esempio per Fiorella Mannoia. Ecco, questo loro incontro naturalmente va a poggiare sul materiale, sul repertorio, sulla memoria, sul pensiero di Franco Battiato. Franco Battiato è scomparso esattamente due anni fa, era il maggio 2021. Franco Battiato ha lasciato un repertorio straordinario di canzoni buone per tanti usi. Sono canzoni che si possono ballare, si possono recitare a memoria, si possono canticchiare come uno scioglilingua, penso a Cucurucucu Paloma, ma ci sono poi canzoni che invece sono vere e proprie preghiere, L'ombra della luce, E ti vengo a cercare, La cura e altre ancora. Ecco, questa parte del suo canzoniere viene recuperata da Amara e da Cristicchi, che per quasi due ore attraversano la storia di Battiato, in parte si ascolterà anche la voce di Battiato con dei brevi stralci di intervista, ci saranno delle letture e poi soprattutto musica e canzoni. Ci saranno anche delle parentesi più giocose, dove la gente può partecipare cantando e volendo alzarsi in piedi, questo è successo a Milano. È chiaro che con brani come Voglio vederti danzare o L'era del cinghiale bianco, subito ci si unisce in coro. Poi ci si riprende in una posizione più pensosa, più riflessiva e si ascoltano i testi, che sono meravigliosi, i testi di Battiato, anche riascoltati dopo tanto tempo, fanno un grande effetto. L'esecuzione di Cristicchi e di Amara è sostanzialmente molto rispettosa dell'originale, anche se le voci sono diverse e soprattutto sono due, una femminile e una maschile. Quindi credo che il pubblico che ama Battiato lo ritroverà assolutamente non tradito nello spirito, nella dimensione più intima, ma rivisitato con molto rispetto e con molta eleganza. Quindi anche in questo caso uno spettacolo su cui io posso assolutamente garantire. Il pubblico a Milano ho visto che ha gradito moltissimo. Grazie Enzo, non vediamo l'ora di gustarci queste serate con la musica e con naturalmente pianoforte. Grazie, ci vediamo spesso in questo periodo in Casentina.